Dario Ma scherzi da Dario? E qui è tu Dario? Ma nonno, chi sta cercando? Ma che mi fa ancora i miei bischi? Mi mangiai tutti i giorni, e che io stai lontano e gli ammi non c'è fanno E qual è il problema? Dimmi un'ora stai con i miei bischi io tu voto a casa Avemo un mitichi e magari fischi spada Tutti i tipi di frutti mare, cozuli, messina senza testa IADU NINA VIVU BUPUJE SOLA SINDERA VIGAMINA VIVU BUPUJE PIGIADU FRISKU DA MADINA MAI KIKOZA JE PARIM BRILLANDA MASCULINA TENIKA UBAGALARU DATZA VINA CELLARA GOSTA KADIKA GOSTA SU LUKA A VOCUARI ORA DI BIGGIU ORA DI BOTU ORA DI KATU ORA DI MOGIO E LORADA GAGO GASADU DA VAIKULLA GHADA GASADU E VERI GASADU 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 Giovanni Galermo, 70 Catania. Da noi puoi trovare i migliori frutti di mare, pesce fresco, pesce congelato, pesce decongelato e preparati, anche consegne a domicilio. Pescheria da Dario, la pescheria a portata di mano.